Musica Perfetto ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi entriamo ad affrontare un argomento un po' particolare Perché come ho già fatto per il PC Schiavania Oggi ho intenzione di andare a riprogettare un altro custom loop Quindi andare a rifare un altro PC che poi vi porterò sul canale Il PC in questione ha un i9-9900K Una RTX 2060 ROG Strix 32GB di RAM Una RTX 3090 Gaming Pro Carbon Vari sui siti e un hard disk da un terra Il mio obiettivo è quello di andare a realizzare un PC al muro Quindi io vorrei andare praticamente a levare il case del computer Che adesso andrò ad attaccare singoli componenti al muro Ovviamente costruendo una cosa di degno che lo andrò a sostenere Che adesso andremo appunto a progettare insieme E infine farci un custom loop Custom loop che ancora una volta sarà costituito da componenti Corsair Infatti abbiamo qua già una XD5 Una XD5 Che saranno rispettivamente la pompa e il waterblock della nostra CPU Quindi per ragazzi per supportarmi mi raccomando lasciate like al video Commentate qua sotto E ovviamente se avete delle idee che sono veramente importanti Potrebbero servirmi anche per vedere realizzato quello che voi avete pensato Nel video mi raccomando non esistete a scrivermi lo nei commenti Perché lo leggerò sicuramente E ovviamente se sono cose produttive le andrò anche ad applicare nel progetto Magari portando anche un altro video Ok allora ragazzi vi faccio vedere Diciamo che il progetto che avevo già fatto è questo qua Praticamente se adesso voi non ci state capendo niente Non vi preoccupate In realtà è molto incasinato ed è perfettamente normale che voi ci capiate veramente poco Anch'io sinceramente a vedermi così a primo impatto Ci capirai poco e niente In questa posizione qua dove adesso sto passando il mouse Andrebbe diciamo la scheda madre Questo qua sarebbe il buco per i 24 pin Questo qua il buco per l'8 pin più 4 pin della CPU E questa qua trasparente invece sarebbe la mia scheda video La scheda video che vi ricordo è molto grande In questa posizione qua quadrata Ci andrebbe messa la pompa che vi ho fatto vedere prima Col suo apposito bracket per montarla sul legno Come una ventola da 12 mm Mentre invece questi due paletti sopra Sarebbero per andare a posizionare il radiatore In modo da non far vedere i paletti Ma farò vedere solo il radiatore In modo che il radiatore sia della larghezza esatta di tutta la struttura E il tutto si andrebbe ad appoggiare su questa diciamo Mensola se così si può chiamare Molto spessa Mastodontica e grossa Questa cosa qua l'ho progettata questi giorni Però non mi piace molto Perché è molto lineare Ed è praticamente come avere un case Se io prendo il case e lo metto su una mensola Più o meno il risultato è quello Ovviamente mettendoci un custom loop dentro Quindi cosa ho fatto ho deciso di riprogettarla Ispirandomi anche a qualche tutorial visto su internet E voglio provare a fare una roba futuristica e nuova Vi spiego Tutte le componenti saranno iscritte in dei rettangoli Tipo quello che state vedendo in questo momento a schermo Ok questo qua per esempio è quello della scheda madre Ciò significa che andrò a creare con legno questo perimetro E successivamente andrò a mettere al suo interno la scheda madre Poi cosa andrò a fare qua dentro ci sarà solo e esclusivamente la scheda madre Andrò a mettere altri rettangoli sparsi in modo casuale E andrò a mettere al suo interno altri componenti Come ad esempio la scheda video Come ad esempio l'alimentatore E come ad esempio la pompa Anche perché poi non ce ne sono altri Se non gli SSD però lo faremo e viene bene il resto La prima cosa che dobbiamo fare però Prima di pensare a come fare tutti gli altri quadrati È pensare a una cosa fondamentale Ovvero come lo fisseremo al muro Perché una volta che noi abbiamo il nostro bellissimo quadrato Lo abbiamo come ho detto fissare al muro Perché non è che è fluttua E quindi dobbiamo studiarci un metodo per farlo Mi piacerebbe veramente tanto che il perimetro di tutti i rettangoli Che andranno a formare il mio tra virgolette case Fosse perfettamente appiccato al muro In questo modo non si andrebbero a creare degli spazi Spazi che a me ovviamente non piacerebbero Però come ho detto adesso andiamo a studiare il metodo di montaggio Del rettangolo al muro Rettangolo che in questo caso è quello della scheda madre Poi praticamente ci basterà fare contro C contro V E modificare le dimensioni Ora ragazzi ipotizzate che dietro questo rettangolo ci sia un muro Ok un muro che voi adesso non vedete perché è trasparente Cosa voglio fare? Voglio andare a posizionare un listello piegato a 45 gradi E mettere lo stesso listello sul muro In questo modo quando noi lo andiamo a incastrare al muro Si fermerà perfettamente e sarà perfettamente inchiodato Inoltre proprio per essere sicuri andrò a mettere anche dalle parti Gli angolari attenzione però perché questi angolari sarebbero brutti da vedere Infatti andrò a tappezzare tutto quello che non verrà aperto dal case Lo chiamiamo ancora così Da pannelli forno assorbenti Quindi ragazzi come vi ho detto adesso voglio andare a prendere le misure Questa parte interna e sono 343 mm 343 perché? Perché la scheda madre è lunga 243 mm Quindi il mio obiettivo sarebbe quello di lasciare 5 cm in sinistra e 5 cm in destra In modo da fare una cosa assolutamente simmetrica che a me piace molto Stessa cosa per la lunghezza che è 404 mm Perché la scheda madre è di 304 mm Quindi voglio lasciare 5 cm in alto e 5 cm in basso Questa struttura perché appunto sarà quella che andrà a sorreggere tutto quello che noi faremo La vorrei fare spessa 2,5 cm Che è la dimensione dei bordi del nostro rettangolo Quindi andiamo a mettere 25 mm Andiamo a fare un lavoro del genere E lo apportiamo per tot centimetri fino a quando non ci fa vedere che c'è questo punto Bene A questo punto cosa dobbiamo fare? Questa parte è la vera e propria struttura portata Andiamo a mettere 50 di qua 50 di qua E 50 di qua Poi si andrà a chiudere tutto Però noi ovviamente dobbiamo andare a cancellare questa parte Ora vi direte ma cosa è appena fatto? Cos'è questa cosa? Bene ve lo spiego subito In pratica adesso noi andiamo a girare l'immagine Quindi vederla da quest'altra parte Quest'altra angolazione Sappiamo che il tutto è 50 Ok quindi 5 cm Quindi praticamente se noi andiamo a tirare una riga giù di Parallelo ovviamente di 2,5 cm In questo modo qua Andiamo a portare fino all'altra parte di così E poi lo portiamo così Ci viene un lavoro del genere A questo punto ci basta unire questi punti qua E andrà a formarsi una struttura del genere Questo ragazzi è proprio quello che volevo ottenere Infatti poi al muro cosa sarà fatto? Sarà fatta la stessa identica cosa Solamente che sarà messa al contrario Quindi al muro praticamente avremo Non è stato tutta una legenda ribaltata E le curve a 45 gradi Si andranno ad incastrare perfettamente In modo da avere il perimetro perfettamente attaccato al muro E una struttura ben salda Ovviamente ragazzi se vorreste replicare una cosa del genere State ben attenti ai materiali che sceglierete Ovviamente in un video dove anche vado a comprare le cose O compro le cose online non lo so Vi farò vedere come si fa Però state veramente ben attenti Perché comunque state giocando con dei componenti Che almeno nel mio caso costano tanto E quindi neggiardi sarebbe veramente Un veramente un grande rischio Genericamente Le schede video si trovano nella parte bassa delle schede madre Ok? Ci sono le PCI che si trovano appunto nella parte bassa della scheda madre Quindi le schede video si andranno a mettere proprio esattamente nelle PCI Express Però io per rivoluzionare un po' il tutto Voglio andare a mettere il rettangolo della scheda video in alto In modo da dare un senso di disorientamento Che quando uno vedrà per la prima volta il mio PC Dirà Wow! Ma com'è possibile questa cosa? Che strano! Sono abituato a vedere la scheda video in basso Invece questo ragazzo l'ha messa a destra in alto Infatti è proprio quello che voglio andare a fare Infatti a questo punto qua Andranno a creare un altro rettangolo Che sarà appunto quello della scheda video La scheda video però non la metterò in verticale come la scheda madre Ma la metterò in orizzontale Quindi si andrà a creare un rettangolo Che sarà più lungo in lunghezza rispetto a quella in altezza 850 840 Eh ma ci sta Ragazzi ho appena misurato sono 92 cm Quindi se questo qua è Come avevo detto prima 843 Siamo proprio al limite eh Però dai diciamo che lasciamo 4 cm di qua 4 cm di là E siamo a posto Avendo un radiatore una dimensione di 396x120x30 E' appunto quello più grosso di tutto il nostro setup Abbiamo due soluzioni La prima è quello di andarlo a mettere diciamo Verso centro della nostra scheda video Quindi andarlo a posizionare in questa posizione qua Invece la seconda Sarebbe quella di andarlo a mettere in maniera verticale Sopra qua la scheda madre Non so cosa vi piacerebbe di più a voi Però non lo so nemmeno io cosa sceglie Perfetto Abbiamo anche la nostra altra struttura di montaggio Quindi dicendo un piccolo recap Abbiamo in basso la scheda madre A destra la scheda video E sopra il radiatore Adesso voglio andare a mettere la pompa La pompa la andrò a mettere nella posizione più bassa Perché ovviamente in questo modo Andando ad inserire anche un rubinetto Posso semplicemente a prendere un rubinetto Svuotare tutto il loop Perché se no ovviamente andiamo a mettere la pompa in alto Poi se per un rubinetto esce solo l'acqua che si trova sopra la pompa Quella ovviamente che si trova sotto Perché fino a una capilarità come ho detto non esce Quindi andremo a mettere sotto Più per la precisione andremo a mettere nella posizione qua in basso Adesso cosa manca Alimentatore Alimentatore lo voglio mettere qua sotto la scheda video Per punto di mezzo poi i cavi sono abbastanza corti Quindi andiamo a mettere proprio qua 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 sotto la scheda video All'appello mancano il mio 4k 60 pro Che sarebbe la mia scheda di acquisizione E gli ssd E quindi andremo a creare un vano per quelli Ovviamente due vani separati Che però saranno molto 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 ma molto piccoli Bene Come avrete però notato mancano gli ssd che avevo detto che avrei voluto mettere Quindi se vorreste vedere come li andrò a mettere Seguite il prossimo video che andrò a fare Ovvero quello dove andrò a comprare tutti i pezzi E vi spoglierò anche come andranno messi gli ssd Quindi direi che da Francesco Bagli è tutto Se avete dei consigli mi raccomando Scrivetevi qua sotto nei commenti Perché io i commenti li leggo E posso usare quello che venite voi all'interno del mio video E della mia build che andrò a fare Lasciate un like al video se vi è piaciuto Invece il dislike se non vi è piaciuto E direi che noi ci vediamo nel prossimo video Nel prossimo video Per il prossimo video Per il prossimo video è tutto Paroo Per il prossimo video è il prossimo video